È un momento un po' nero per la fotografia a livello professionale, come se non fossero bastati gli smartphone, adesso irrompono prepotentemente le intelligenze artificiali che di fatto decretano la fine di questa professione. Ma sarà vero? Oppure no? Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi parliamo, come già sapete se mi seguite, da un po' di fotografia e videomaking. Faccio un po' eco con questo mio contenuto a un video uscito ormai qualche tempo fa sul canale del bravissimo Mario Palladino, videomaker che seguo da tanti anni con grande interesse, vi consiglio di andarvelo a scoprire se non lo conoscete. In questo video Mario parlava proprio di questo, ovvero dell'intelligenza artificiale che in qualche maniera va a soppiantare l'essere umano, va di fatto a toglierci il lavoro. E lui, in questo video che vi consiglio di andare a recuperare perché dice cose magari che io non dirò perché non faccio un contenuto copiando il suo, quindi andatevelo a recuperare, in questo video sostanzialmente lui si professa poco preoccupato di queste intelligenze artificiali perché c'è qualcosa che una macchina non riuscirà mai a fare. Io oggi vado ad aggiungere qualcosa a quanto già detto da Mario perché vado a dirvi perché, secondo me, questa dell'intelligenza artificiale, perlomeno in ambito fotografico, è sostanzialmente una bolla che si sgonfia da sola. Prima di cominciare vi ricordo come sempre che potete supportare il canale in maniera facile, veloce e gratuita semplicemente iscrivendovi il bottone qui sotto, attivate anche la campanella così non vi perdete le notifiche, mettete anche un like a questo video, soprattutto se siete fotografi, videomaker, operatori del settore, perché vi sto tranquillizzando, quindi fondamentalmente questo video ha un effetto calmante e la vostra vita migliorerà decisamente dopo averlo guardato, per cui assicuratevi anche di seguirlo fino alla fine e andiamo a incominciare. Ok, la prendo larga. Oggi in ufficio abbiamo testato ChatGPT e abbiamo provato a vedere che cosa succede se io chiedo a ChatGPT di scrivere un preventivo per un mio cliente. Ora, quello che succede è che ChatGPT magari richiede alcune informazioni per andare a creare questo preventivo ex novo, non sapendo niente né di me né del mio cliente, bisogna dargli due input e dopo di che va a creare un preventivo e, accidenti, ci azzecca, ci becca quasi, va a stabilire una cifra che non è lontanissima da quella corretta, va a mettere delle clausole che sono giuste, delle clausole un po' per tutelare il cliente, un po' per tutelare me dal cliente, quindi fondamentalmente fa un buon lavoro. Da quel punto di vista diciamo che può quasi sostituirsi a me o a un mio collega. Quasi però, perché c'è qualcosa che non riuscirà mai a fare. Andiamo a scoprire man mano nel corso del video tutte le cose che queste intelligenze artificiali secondo me non riusciranno mai a fare, però prima ancora di cominciare a farlo vorrei che ci soffermassimo un attimo sull'essere umano, perché alla fine ChatGPT e tutte queste intelligenze, questi algoritmi che creano immagini prendendo pezzi di altre immagini si basano su degli algoritmi complicati, su dei motori di ricerca complessi, ma vanno a creare qualcosa che deve ottenere l'effetto più banale, scontato e prevedibile dell'universo, ovvero generare un'emozione nelle persone. Perché tutte le volte che noi usiamo questi calcolatori per generare dei contenuti, alla fine vogliamo una cosa sola, vogliamo andare a catturare l'interesse di altri esseri umani. Questo è importante tenerlo a mente, cioè finché noi utilizziamo noi stessi per andare a blandire la macchina, faccio l'esempio della SEO, noi andiamo a scrivere dei contenuti per i siti web, parlo di miei colleghi che fanno questo, scriviamo dei contenuti per i siti web e li scriviamo non per le persone, ma per la macchina. Perché noi vogliamo che Google, il motore di ricerca supremo, guardi di buon occhio il nostro sito web e quindi scriviamo dei contenuti con i criteri che piacciono alla macchina. La macchina sta cercando a sua volta di indovinare quali sono i criteri che piacciono agli esseri umani, in maniera tale che una macchina sta decidendo che cosa può piacere alle persone. Perché questo è quello che succede, fondamentalmente abbiamo un calcolatore elettronico formidabile, meraviglioso, che ci azzecca quasi sempre, però una macchina, cioè non di meno, che sta tirando a indovinare su una serie di parametri che continuano a crescere perché si basa anche su le reazioni che ottiene, quindi un determinato sito che aveva previsto dovesse andare bene invece va male, quindi la macchina impara e la prossima volta non rifà lo stesso errore. È una cosa meravigliosa, è sbalorditiva se ci pensate, ma guardiamo il fenomeno da lontano e con il dovuto distacco. Stiamo delegando a una macchina cercare di capire che cosa potrà piacere a degli esseri umani. Per quanto la cosa sui grandi numeri funzioni, alla lunga secondo me è una cosa che ci lascia sempre un po' così, perché ce ne rendiamo conto, questo digital, questo web ci sta un po' stufando, ci rendiamo conto che è tutto artefatto, è tutto finto online, tutto quello che vediamo è finto, tutto quello che ci mettono davanti agli occhi è finto, è artefatto, è creato per blandirci, per farci vedere quello che vogliono farci vedere, ma è tutto finto. Dove voglio arrivare con questo discorso? Voglio arrivare semplicemente qui. Nel momento in cui noi andiamo a introdurre questo tipo di intelligenze artificiali anche nella creazione di immagini, anche nella fotografia, un pubblico che ormai non è più il pubblico dei boomer che mandano i gattini su Facebook, un pubblico che è eterogeneo come mai ce ne sono stati ed è smart come mai ce ne sono stati, è un pubblico che riconosce subito un video vero da un video finto, ce ne sono alcuni fatti benissimo però nella maggior parte dei casi lo capisci se un video è vero e un video è finto e abbiamo di fronte un pubblico che di solito lo capisce. Vuoi per una percezione della verosimiglianza per quanto limitata, per cui se vedi un UFO che atterra Times Square dici ok questo deve essere finto, lì ci arriviamo tutti. Allo stesso modo se vedi, che ne so, la regina Elisabetta che gioca a golf sulla luna anche lì dici questo è finto, ci sono delle cose che non possono essere vere quindi per forza di cose guardi dei video e dici questo contenuto è finto, ma anche nel momento in cui andiamo magari a presentare un prodotto troppo perfetto la gente se lo domanda e ormai riusciamo a riconoscere più o meno se mi stai facendo vedere una cosa vera o se mi stai facendo vedere un render. Mi dispiace veramente di non riuscire a ricordarmi perché lo vidi anni fa, è su YouTube, se cercate c'è un creator molto bravo, non italiano, americano se ricordo bene, comunque anglofono, che faceva questo contenuto molto carino, in pratica cercava di riprodurre una fotografia di un prodotto Apple, non ricordo quale fosse un iPhone degli Airpods, non importa, un prodotto Apple cercava di riprodurre lo scatto che poi era il manifesto, la pubblicità di questo prodotto Apple. Alla fine il resoconto del video è non è possibile, quella foto non si può fare, quantomeno non si può fare con un singolo scatto, bisogna fare scatti multipli, è una cosa che si fa, per carità, si lavora con scatti multipli, io stesso lo faccio, si fa tranquillamente, però quella è una foto impossibile da fare con un singolo scatto e ve lo dice uno che è più bravo di me, questo qua è più bravo di me, un fotografo fa still life, è più bravo di me, ha uno studio più grande, ha tantissime attrezzature in più, quindi è uno bravo che ce lo dice. I prodotti della Apple spesso e volentieri, quando noi vediamo le pubblicità, specie quelle giganti cartelloni pubblicitari per la strada, non sono fotografie, sono render, sono finti fondamentalmente. Ora il punto è, noi questa cosa da Apple l'accettiamo, l'abbiamo sempre accettata, i prodotti Apple hanno questo design fantastico, io ho la mela stampata addosso da quando ero bambino, non ho mai avuto un PC in tutta la mia vita perché mio padre usava Mac e quindi anch'io ho usato Mac e non riesco a lavorare sul PC, ho bisogno di lavorare su Mac perché è il mio ambiente, lì mi trovo al sicuro, mi trovo a mio agio e quindi è il mio ambiente, il marketing ha avuto questo effetto su di me ma c'è anche qualcosa di vero perché comunque rimango fedele al marchio perché mi trovo bene, al di là di certe politiche che non commento perché ovviamente non è che mi piace tutto. Il punto però qual è? Su un prodotto come Apple la cosa fin qui ha funzionato, vedremo se continuerà a funzionare, probabilmente sì perché siamo abituati a una cosa del genere ma voi immaginatevi in un contesto differente applicare la stessa cosa, immaginatevi un altro tipo di prodotto, immaginatevi poi adesso con tutti i micro brand che hanno questa a volte mal riposta pretesa di originalità che improvvisamente si mettono a mostrarvi delle pubblicità, delle immagini, delle ads con immagini generate da un calcolatore, da un computer. È una cosa che secondo me non funziona, non attecchisce perché un conto è Apple, ok? L'olimpo della tecnologia. Cioè da Apple io accetto qualsiasi cosa, accetto che mi facciano pagare delle licenze un po' capestro, che mi tartassino di aggiornamenti, accetti tutto da Apple ma non accetti questa cosa da tutti. Per cui nel momento in cui un micro brand ti presenta delle immagini di un prodotto che spaccia come genuino, artigianale, chilometro zero, non puoi fare una cosa finta. Io voglio vedere il prodotto vero. Ok, qualcuno di voi starà pensando ma le fotografie del panino di McDonald si è scoperto dopo anni, anche i non addetti ai lavori dopo anni hanno scoperto che il panino di McDonald non è un vero panino ma è stata fatta una fotografia A, un panino fatto di plastica con la colla messa sopra per farlo sembrare più bello, con l'insalata finta perché se no l'insalata di un panino vero appassisce. Quindi certo è vero, ci sono certi prodotti che non rispecchiano esattamente la realtà nella fotografia che ci viene presentata. Stiamo parlando di McDonald però, attenzione bene, cioè lì non ha una pretesa di essere il cibo più buono e fantastico del mondo. Capite bene che c'è una differenza, cioè McDonald se l'è sempre potuto permettere di farti vedere una foto più bella di quella che è effettivamente e però comunque è una foto vera, non è generata da computer. Il punto qual è? Il punto è proprio questo. Se i big, quindi grandi brand hanno fatto cose del genere in passato è un discorso, ma adesso il fatto che tutti comincino a fare questa cosa secondo me si porta dietro molti dubbi e secondo me è un bel momento ma molto presto, perché adesso tutti quanti stanno facendo le campagne con l'intelligenza artificiale ma questa cosa si sgonfia dopo un po', questa cosa si sgonfia perché il pubblico da casa dirà un bel momento, secondo me è abbastanza presto, ma è tutto finto quello che fai? È tutto etereo? Cioè è tutto nel calcolatore? Quando io ti ordino un prodotto è finto? Cioè mi arriva a casa un prodotto finto che svanisce come fumo quando io lo apro? Oppure è vero, è materico, me lo fai vedere, me lo fai toccare? Secondo me la fotografia vera non scomparirà e sto parlando di fotografia B2B per il momento, adesso poi andiamo a parlare della fotografia B2C. Secondo me la fotografia vera non scomparirà mai e anzi diventerà un vanto per quelli che possono ancora permettersi di farti vedere il prodotto vero, fatto bene ovviamente, fatto come, deve sembrare un render. C'è stato qualcuno di voi, che non so se fosse un mio iscritto oppure no, non ho controllato, c'è stato qualcuno, se sai che mi sto rivolgendo a te commenta pure così ne parliamo, c'è stato qualcuno che mi ha lasciato un commento a un mio video dicendomi bel video, grazie, interessante però, perché se parli di fotografia ci fai vedere solo render nel tuo video? E io gli ho risposto, ti ringrazio tantissimo perché se tu mi dici che le foto che ho fatto, cioè ho i dati EXIF, posso mostrarveli, se tu mi dici che le foto che ho fatto, che ho mostrato nel video sembrano render, mi inorgollisco tantissimo, vuol dire che le ho fatte veramente bene, se da casa sembrano dei render. Qui, capito, è possibile fare quella roba lì fotograficamente, chiami uno bravo, più bravo di me, non sto dicendo che sono un luminare io, chiami uno bravo che fa quello e ti fai fare le tue foto prodotto come Dio comanda. Vi posso anche dire che le so fare anch'io, ve ne mostro due tanto per, è una cosa che si fa, queste in particolare che vi sto facendo vedere erano macchinari industriali, sono grandi, è come un'automobile praticamente, quindi è una roba non piccola, non facilissima da fare, è un lavoro di cui sono molto molto contento. Macchinari industriali, still life, se tu vuoi una cosa fotografica vera, te la fai fotografare davvero in questo modo qui. Macchinari costosi, ovviamente è ovvio che non lo fai per, c'è un micro brand che fa bottiglie di birra da 250 ml, probabilmente non la fa, perché non ha un margine sufficiente sulla vendita della singola bottiglia da dire pago un mega servizio fotografico. Magari invece sì, però tendenzialmente no, ma se il tuo prodotto vale di più, secondo me diventa un vanto il fatto di dire io ancora me lo faccio fotografare, io ancora ho quella cosa lì. Tenete presente che questa azienda è un momentaccio, continuano a passare ambulanze. Dicevo, tenete conto che il cliente in questione che mi ha commissionato queste foto dei macchinari industriali aveva le progettazioni 3D dei macchinari che mi ha fatto fotografare, quindi non c'era niente di più facile, non c'era neanche bisogno dell'intelligenza artificiale, ce l'avevi già lì, facevi il render, bastava premere un bottone, lasciavi il computer a macinare il render tutta la notte e avevi la tua foto fatta, bella e finita. Ma il cliente voleva una fotografia, perché nel momento in cui tu fai una fotografia hai un effetto completamente diverso. Il cliente da casa, il cliente quello, passatemi il termine, quello ignorante, quello che compra, magari non capisce la differenza tra un render e una fotografia vera, non sempre almeno, però la sensazione, il feeling, quella cosa di dire questo prodotto mi piace perché è proprio materico, lo vedo. Il render, quella cosa, ancora non te la dai, secondo me ancora per un bel po' non riuscirà a dartela, perché non la vedi la differenza, ma la senti, ti arriva, perché tu sei una persona, non una macchina. E attenzione, se tu fai una ricerca per immagini su Google e gli dai un render, Google ti trova delle altre foto magari, non ti trova solo render. Viceversa, se dai un render alla ricerca di immagini per Google, Google magari ti trova delle foto vere. Cioè, l'intelligenza artificiale non la capisce quella cosa lì, non la capisce la differenza. Noi invece sì. Chi è educato a capirla la capisce, chi non è educato a capirla la percepisce. Comunque è una cosa umana, animale, la senti la vibrazione di una cosa vera che esiste davvero. Mettiamoci anche dentro, e rimaniamo sempre sul B2B, mi sto trattenendo dall'andare sul B2C, perché c'è tanto da dire anche lì, mettiamoci anche dentro che un mio ipotetico cliente che vende un ipotetico prodotto nelle fotografie potrebbe volere un prodotto generico, come magari un McDonald potrebbe dire, ma sì, facciamo la foto di un hamburger, che poi non è assolutamente così, però facciamo finta, foto di un hamburger normale, tanto va bene. Invece un mio cliente che magari ha un brevetto e produce una vite fatta in un certo modo, cosa che mi è capitata, ho lavorato per un'azienda che produceva viti, erano tutte particolari fatte su misura. Secondo voi costa meno un servizio fotografico in cui io le fotografo tutte, o programmare un'intelligenza artificiale in modo che le riproduca? Costa molto meno farle fotografare a quel punto, e hai il vantaggio che oltre ad aver pagato di meno sono belle materiche e poi fai tutti gli utilizzi che vuoi. Oppure un altro mio cliente che magari produce macchinari industriali, ma secondo voi un cliente che fa una cosa altamente specializzata come produrre macchine industriali che hanno delle misure precise al millimetro, può permettersi di andare a programmare un'intelligenza artificiale affinché riproduca esattamente quelle cose lì? Oppure gli conviene continuare a pagare un fotografo? Senza contare che appunto l'intelligenza artificiale ragiona, fa i suoi calcoli, però potrebbe non essere sempre precisa e quindi uno potrebbe dire ok ma tu mi stai facendo vedere il prodotto vero, con le misure vere, con la consistenza vera, o mi stai facendo vedere un render o comunque una cosa artefatta che poi non corrisponde alla realtà. E in quegli ambiti lì sono un po' pignolini, secondo me se tu gli presenti, il fatto che mi hanno pagato il servizio fotografico che vi ho mostrato è la prova, se tu gli presenti una fotografia del tuo macchinario fai tutt'altra impressione piuttosto che se presenti il render, per almeno due ragioni. La prima è che è vera, e quindi come dicevo la vibrazione di un'immagine vera arriva all'osservatore. Il secondo motivo è che è evidente, se tu produci macchinari industriali, la progettazione 3D ce l'hai, quindi non ci vuole niente, premi un bottone e ti fai venire fuori il render. Ma nel momento in cui tu presenti una foto, tu non stai solo dicendo a chi osserva quella foto che può essere sia un cliente finale sia un tuo competitor, tu non gli stai solo dicendo io produco questo macchinario, tu gli stai dicendo io me lo faccio pagare abbastanza bene da avere i soldi per farmelo fotografare, ho fatto venire qui un fotografo, è stato qui sei giorni, abbiamo fotografato tutto quanto. C'è anche una manifestazione di potere nel fatto di esibire una fotografia, quindi anche questo non ce lo dobbiamo dimenticare, è questo l'intelligenza artificiale che è una roba standardizzata, che sarà poi uguale per tutti, non te lo dà. Molto bene ma questo è il momento che stavo aspettando, addentriamoci nel B2C, cominciamo a intravedere la punta dell'iceberg. Ora riprendiamo il filone di prima, noi abbiamo a che fare con persone, persone che sono in balia di software, noi tutto il giorno siamo sballottati da algoritmi che ci dicono che cosa ci deve piacere, che cosa dobbiamo fare, che cosa dobbiamo comprare, come ci dobbiamo vestire, che cosa dobbiamo mangiare. Questo succede anche a me, infatti io ormai mangio le memory card perché continuo a vedere pubblicità di strumentazioni tecnologiche per cui compro roba e alla fine mi ritrovo a masticare le batterie delle macchine fotografiche, succede a tutti, io non sono certo esente, ma noi alla fine che cos'è che vogliamo, che cos'è che cerchiamo quando apriamo i social? Cerchiamo solo interazioni umane, siamo stufi della macchina, siamo stufi di una macchina che non ci capisce, da cui non ci sentiamo compresi, che ci fa vedere parzialmente quello che vogliamo e che se vai a vedere il disegno globale ci peggiora la vita perché non fa altro che metterci in un sistema dove siamo delle batterie che devono solo alimentare la macchina stessa. Siamo tutti un po' stufi di questa cosa, l'abbandono che c'è stato di recente dal mondo dei social, in particolare delle piattaforme di meta, ne è la dimostrazione e questa ricerca del contatto umano ci riporta a considerare il fatto che comunque siamo esseri umani e ora spogliamoci di tutte le metriche della vanità a cui siamo ormai abituati, spogliamoci dal desiderio di approvazione che ci spinge a postare una foto per vedere quanti like prendiamo. Oppure no, neanche, teniamocela, però riflettiamoci un attimo. Nel momento in cui noi postiamo un contenuto, un contenuto fotografico in questo caso, noi vogliamo prendere dei like perché ci siamo noi nella foto o vogliamo prendere dei like perché nella foto c'è un'immagine nostra messa insieme da un computer? Questa è una differenza enorme, una differenza che chi progetta intelligenze artificiali probabilmente non ha nemmeno percepito perché è troppo impegnato a programmare questo supercomputer per rendersi conto che è una cosa bellissima che sicuramente farà perdere tantissimi posti di lavoro, ne genererà probabilmente la metà di quelli che sono stati persi come in tutte le rivoluzioni industriali, tantissimi verranno lasciati a casa e lasciati indietro ma altri invece ci faranno su una fortuna, quindi per alcuni sarà una cosa buona indubbiamente. Però capito, sono così impegnati a programmare questa cosa che non hanno pensato a quanto il pubblico di riferimento che alla fine siamo noi, quanto noi la volevamo questa roba e la risposta è che non la volevamo, non l'abbiamo mai chiesta, non sappiamo che farcene. Quando apriamo i social stiamo cercando solo altre persone e io parlo per me però ditemi cosa ne pensate, ditemelo in un commento. Nel momento in cui io posto una mia foto, vabbè voi direte tu foto tu e non ne puoi, è vero, io non posto mie foto però io mi immagino che una persona che posta una propria foto ha piacere ad avere un riscontro, un commento, un like se nella foto c'è veramente la persona che posta, non se la foto è finta. Lo so che l'abbiamo postata tutti, io no, anche lì, io non l'ho fatto. Lo so che tutti quanti hanno postato la propria foto rimaneggiata dall'intelligenza artificiale, l'abbiamo fatto una volta. È stata una cosa che abbiamo fatto tutti quanti una volta per gioco ma ci avete fatto caso che l'abbiamo fatto una volta e poi mai più? Abbiamo già finito, è già finita quella cosa lì. Nel senso che è l'ebrezza del momento, tu nel quel momento lì dici voglio fare anche io sto giochino perché entraendo oggi su YouTube, su Twitter, su Instagram la faccio oggi ma poi non lo faccio più. Cioè quando io vado in vacanza non dico al calcolatore genera una mia foto prendendo la mia faccia genera una mia foto con cui sono in spiaggia con questo panorama che ho dietro, non faccio questo giochino. Proprio come se vado a un matrimonio non è che dico al calcolatore fammi tu una fotografia degli sposi, proprio come se devo fotografare un politico che parla non dico al calcolatore fammi tu il politico che parla ma ci pensa, cioè provate a immaginarvi questo contesto. Un politico, quindi una persona che non voglio spingermi a dire che mente di professione però fondamentalmente fa promesse tutto il giorno, stringe mani tutto il giorno e deve sembrare quanto più autentica possibile per compensare tutte le promesse che non potrà mantenere. Vi immaginate che figura ci fa un politico a postare delle foto fatte con un'intelligenza artificiale quindi dici ok questo qui sta promettendo delle cose che sa benissimo che non potrà mai promettere per avere dei voti che probabilmente non dovrebbe avere per governare un paese di cui probabilmente sa poco o niente e non si presenta neanche, ci mette delle foto fatte con l'intelligenza artificiale perché non è nemmeno andato sul posto. È intollerabile una cosa del genere e questa anche il cittadino da casa la percepisce per cui esistono proprio degli ambiti ma la politica in particolar modo ma ce ne sono come già detto tanti altri. Tu non puoi delegare a un calcolatore di comunicare per te quello che era lo spazio occupato dalla tua figura in quel momento cioè è una cosa sacra io ero lì in quel momento era un evento era una cosa ben precisa io non posso comunicare quella che è la mia attività quale che sia facendoti vedere una cosa finta non lo puoi fare non puoi farla questa cosa la percezione che dai è pessima è veramente pessima cioè immaginatevi Cesare Ferrari fa al fotografo vi fa vedere una serie di foto che non ha fatto lui sei sei un pagliaccio. Portiamo tutto questo ancora più verso il B2C quindi andiamo verso i clienti finali voi immaginatevi una festa di compleanno avete chiamato un fotografo per farvi le foto questo fotografo vi deve fare delle foto vere io voglio vedere i vostri sorrisi veri le vostre lacrime di gioia avere la torta vera non una cosa finta perché allora a quel punto non si faceva neanche la festa andavamo sul cellulare dicevamo generami un'immagine in cui festeggio gli anni ed era finita lì ma è una schifezza così è una schifezza e per carità a qualcuno potrà fare strapiacere fare quel giochino lì ma non va a sostituire una fotografia che ti ricorda l'emozione di una cosa successa davvero per questo io sono abbastanza tranquillo su tutta la linea proprio perché sì è vero ci sarà qualcuno che utilizzerà queste tecnologie per generare immagini ma proprio come è stato per lo smartphone quando è uscito lo smartphone io non mi sono preoccupato perché non ho perso clienti i clienti che oggi si fanno le foto con lo smartphone sono clienti che prima dello smartphone non avrebbero avuto i soldi per pagarmi erano clienti che comunque non la pagavano la mia prestazione non avevano i soldi per pagarla non ce li avevano prima e non ce li hanno neanche adesso e quindi adesso hanno la possibilità di farsi le foto col telefono e a me fanno solamente un favore perché rendono palese quanto il mio lavoro sia migliore del loro quando io vedo una foto fatta col telefono per carità non tutte c'è anche chi è bravo se uno è bravo è capace col telefono fa delle cose carine però vi linko un video che ho fatto uscire un po di tempo fa in cui vi spiego quali sono le carenze dei nostri clienti quando si fanno le foto da soli vedete che ce n'è per tutte le tasche c'è da ridere da piangere in quel video quando i clienti si fanno le foto da soli e non sono capaci perché non è il loro lavoro proprio come io non so operare a cuore aperto un chirurgo probabilmente le foto le fa meno bene di me fanno delle porcate inenarrabili il più delle volte perché proprio non è la cosa loro è proprio come se io operassi uno di appendicectomia cioè probabilmente gli recido la orta per sbaglio quindi quelli che non potevano pagarmi prima adesso se le stanno facendo da soli mi fanno un favore perché si vede che le loro foto sono terrificanti mentre le mie non voglio dire che sono belle non voglio incensarmi da solo le mie si difendono si difendono sono presentabili le loro sono inguardabili le mie sono presentabili quindi con questa differenza abissale che c'è tra le mie e le loro mi fanno solo un favore tanto non mi avrebbero mai ingaggiato comunque quindi non ho perso niente per quanto riguarda il b2c lì sì che qualcosina hai perso perché adesso ci sono magari le lauree dove non paghi più il fotografo perché ti fai le foto da solo col cellulare però quelli erano i pesci piccoli i matrimoni ci sono ancora a me non piace farli non li faccio preferisco lasciarli a chi è più bravo di me e a chi ha più passione per quella roba lì i matrimoni ci sono ancora ma te li pagano di meno perché comunque hanno quella roba che se non c'è il fotografo se le fanno da soli pescano le foto di 400 invitati e due buone vengono sempre fuori almeno secondo loro e quindi su quella cosa lì un pochino hai perso ma io no io non faccio matrimonio faccio soprattutto b2b per cui io non mi sono preoccupato perché chi b2b aveva i soldi per pagarmi prima dello smartphone ce li ha anche adesso è la stessa identica cosa ragazzi non bisogna scoraggiarsi perché escono le intelligenze artificiali perché chi aveva i soldi per pagare un fotografo prima ce li ha ancora proveranno le intelligenze artificiali proveranno a farsi la foto di gruppo sono stato a fare un servizio fotografico per la foto di gruppo di fine anno con una premiazione finale per un'azienda molto grossa fuori milano mi hanno chiamato il 19 dicembre lavoraccio giornata tosta foto di gruppo tutti quanti cioè foto della manifestazione tutti che ricevevano i premi eccetera eccetera ma ma voi pensate che una cosa del genere possa essere delegata a un'intelligenza artificiale cioè ci deve essere un cristiano che sta lì all'intelligenza artificiale a dirgli fammi la foto dell'impiegato numero uno che riceve il premio indossava un vestito così 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 il premio era di quella forma lì di quel colore lì e poi va a sostituire il nome del premiato e se lo fa per per 400 persone e sta lì a fare questo lavoro infernale per avere la foto finta di 400 persone cioè capite che è un controsenso prendi un stramaledetto fotografo dai due lire a un fotografo che viene ti fa tutto l'ambaradan senza troppi problemi quello non te lo toglierà mai nessuno perché è ancora conveniente che sia così e soprattutto le persone fotografate a un evento come quello non vogliono vedere una roba artefatta finta vogliono vedersi loro vogliono vedere l'emozione sui loro visi quando ricevevano il premio di fine anno perché magari avevano inventato delle cose dei ritrovati scientifici era un'azienda che opera nel settore dei materiali quindi c'erano veramente delle persone che hanno inventato delle cose e quello è un momento è fotografia documentale quella cioè non puoi farla finta è un'altra cosa proprio non te la toglierà mai nessuno quella roba lì così come pure un matrimonio cioè io ma la vedete una sposa cioè ci ho messo un anno a prepararmi a decidere l'acconciatura il vestito le coccarde le scarpe ma vai a sapere ma cosa cacchio ci avete da mettere dentro in tutti questi matrimoni e vi pare che uno dopo che ha fatto tutto sto ambaradan di cose si fa la foto finta fatta con con l'intelligenza artificiale no la vogliono vedere vera la vogliono vera la vogliono anche fatta bene quindi quella roba lì non vi preoccupate amici fotografi perché nessuno ce la leva quella roba lì la fotografia non morirà mai perché siamo persone vogliamo vedere persone in queste immagini non vogliamo vedere cartoni animati non vogliamo vedere videogiochi abbiamo la console in casa facciamo i videogiochi se vogliamo fare i videogiochi quando andiamo sui social quando abbiamo un'interazione di quel tipo vogliamo vedere persone vere e quindi questa cosa non verrà mai scalfita la fotografia tradizionale non vi preoccupate che rimane lì dov'è un ultimo punto in chiusura di questo video che si è dilungato un po' troppo io vi chiedo scusa perché sto cercando di non farne video così lunghi però in questo caso secondo me il tema un pochettino me lo chiamava un'ultima cosa ma voi le avete guardate ste immagini generate da intelligenze artificiali o ho detto guardate no viste tutti le abbiamo viste vi sto chiedendo se le avete guardate coi vostri occhi le avete ingrandite le avete visto grosse fanno schifo ste immagini ragazzi ma le avete guardate bene avete siete andati oltre la patina siete andati oltre l'effetto wow iniziale che poi è sempre un effetto wow finto artefatto perché tutta è finta quella roba lì se provate ad andare oltre vedete che dietro quella patina immediata ci sono delle immagini che sono veramente grossolane con pezzi di cosa sapete cosa mi ha fatto venire in mente mi ha fatto venire in mente la cosa di john carpenter avete presente il film dell'orrore hanno fatto un reboot anche di recente carino pure e in questo film c'era la copertina che era questo questo essere che era tutto finto artefatto anche quello proprio proprio quella roba lì cioè in questo film dell'orrore questo era un alieno che replicava le forme di vita con cui veniva a contatto provate a farci caso guardate le foto generate con intelligenza artificiale io ci vedo quella roba lì ci vedo queste queste dita allungate in maniera innaturale ci vedo questi 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 menti troppo arcini questi nasi finti e tutto cioè sono sono finte sono irrimediabilmente finte e se le guardate da vicino ve ne rendete conto e sono estremamente sgradevoli veramente tanto tanto sgradevoli e parliamo anche della qualità perché almeno quelle che ho visto io potevano reggere su instagram piccole in sci potevano reggere ingranditele su un monitor ora io ho un monitor da 5k non tutti hanno un monitor da 5k non è necessario avere un monitor da 5k anche un monitor in full hd va bene ce l'abbiamo tutti un monitor full hd provate a ingrandirle un attimino fanno schifo ragazzi fanno veramente schifo ci hanno nel migliore dei casi si vedono gli artefatti dove sono state giuntate le immagini nel peggiore dei casi si vedono proprio i pixel non sono delle belle immagini non lo sono proprio e sul lungo periodo secondo me la gente se ne accorgerà per carità migliorerà questa tecnologia migliorerà però nel mentre che noi ci abituiamo a vederla migliorare ci abituiamo anche a volercela scrollare di dosso perché in fin dei conti l'abbiamo postata tutti la nostra foto tranne me tranne me ma l'abbiamo postata tutti la nostra foto finta fatta dal calcolatore ma quanti like avete preso lo sapete benissimo anche voi che quando postate una vostra foto vera il riscontro è diverso e questo perché perché siamo persone e quindi non vi dovete preoccupare perché la fotografia non morirà mai fin tanto che ci saranno persone con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video